Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video, oggi ragazzi nuovo test con il FIMI X8 mini, oggi lo proveremo in due situazioni nei quickshot quindi i voli automatici e poi proveremo l'Active Track perché comunque questo drone seppure un drone sotto i 250 grammi anche se attualmente non è sotto i 250 grammi lo diventerà in seguito con le batterie pro, questo discorso che ormai si è fatto più volte su youtube in cui nessuno ha capito la scelta politica commerciale di FIMI di produrre un drone e metterlo in commercio a 258 grammi con la previsione di renderlo sotto i 250 grammi dopo circa un mese, un mese e mezzo con delle batterie però probabilmente è solo una questione economica per vendere una batteria in più perché altrimenti è davvero davvero inspiegabile, però questo drone che diventerà probabilmente molto presto un drone da 249 grammi all'Active Track quindi proveremo i voli automatici che sono molto simili a quelli del DJI Mavic Mini e Mini 2 e poi proveremo appunto questo Active Track che ovviamente i prodotti DJI non hanno, ce l'hanno solo con applicazioni di terze parti, poi solo in versione beta, è tutto molto più complicato, mentre qua ce l'abbiamo già di serie nell'applicazione FIMI Navi Mini che è l'applicazione dedicata per pilotare questo drone, però bisogna anche vedere come fa questo Active Track. Ovviamente partiamo già dal presupposto ragazzi che non dobbiamo fare un Active Track alla DJI Mavic Air 2 o 2S, qua parliamo di un Active Track di un drone che ci segue nelle passeggiate, al massimo in una corsettina, cioè non in cose estreme, perché innanzitutto non è un drone con i sensori, quindi rischiamo che il drone vada a sbattere e poi comunque valutiamo sempre che è un drone, se vogliamo, low cost e che pesa davvero davvero poco, quindi va valutato, quindi la valutazione va fatta con tutti questi criteri, però questo non vuol dire che lo debba fare male, deve farlo comunque in maniera decente. Mentre i Quickshot ragazzi vi dico subito che li fa, li fa bene, poi adesso appunto li andremo a vedere, ma hanno un limite, almeno a oggi, quindi con il firmware del 21 di maggio, i Quickshot ragazzi si impostano in automatico a 1080p e non c'è verso di cambiargli la risoluzione. Anche DJI di default, quando comprate un drone di default, i Quickshot ve li fa in 1080p, perché poi è la risoluzione ideale per condividere appunto questi voli automatici sui social, quindi Facebook, piuttosto che Instagram, piuttosto che WhatsApp, però se uno volesse integrare questi Quickshot, quindi questi voli automatici all'interno di un video in 4K che sta realizzando, deve poterlo fare e con DJI ovviamente si può, si cambia la risoluzione dei Quickshot e abbiamo i Quickshot in 4K 30fps. Mentre qua ragazzi vanno in automatico a 1080p ma poi non c'è verso di poterlo cambiare a meno, attualmente non c'è, o io non ho capito come si fa, quindi se c'è qualcuno di voi che ha provato a fare i Quickshot con una risoluzione più alta me lo scriva qua sotto nei commenti, perché io a oggi 21 maggio non sono ancora riuscito, secondo me è un problema se c'è che verrà risolto con gli aggiornamenti firmware e software sicuramente, però a oggi è così. Quindi ragazzi dopo aver detto tutto questo è ora però di provarlo, quindi iniziamo con i Quickshot e poi ActiveTrack. Quindi ragazzi è ora di iniziare il test. Il FIM X8 Mini è pronto ed è pronto a effettuare i suoi test, quindi inizierei con i Quickshot. Per attivare i Quickshot basta entrare nel simbolo della fotocamera o della macchina fotografica, vedete che abbiamo subito la scritta Quickshot, abbiamo quello della salita verticale, abbiamo droni che il drone si allontana salendo di quota dal soggetto, poi abbiamo Orbit, quindi girare intorno a un soggetto e poi abbiamo Spiral che crea questa sorta di spirale sempre tenendo inquadrato un soggetto o un punto di interesse. Ok ragazzi, quindi proviamo la funzione droni, quindi il drone si allontanerà da me salendo di quota, abbiamo varie distanze da scegliere per cui il drone si allontani dal soggetto, partiamo da 20 metri per arrivare fino a 100, impostiamo 30 metri, ok, a questo punto basta tirare un rettangolo intorno al soggetto e andare a cliccare il tastino azzurro, vedete che parte il countdown e il drone si allontana dal soggetto, vedete, si allontana e andrà ad una distanza di 30 metri, quella che gli abbiamo impostato, dopodiché a fine di quello che è il Quickshot, o perlomeno dalla lunghezza del Quickshot, farà il ritorno da dove è partito, praticamente come fanno il Mavic Mini o il Mavic Mini 2, quindi è arrivato ad una distanza di 30 metri e adesso se ne ritorna e ritorna da dove è partito. Adesso lo faccio arrivare io più velocemente perché comunque lui il ritorno lo fa in maniera abbastanza lenta, quindi lo faccio scendere io per farlo in maniera più veloce. Ecco qua, adesso proviamo la funzione invece in cui il drone sale in maniera verticale dal soggetto, quindi andiamo a selezionarla, per fare questa funzione dobbiamo essere ad un'altezza almeno di 5 metri, altrimenti il Quickshot non parte, quindi andiamo sopra al soggetto, cioè io abbasso la telecamera, vado ad inquadrarmi, anche qua possiamo selezionare la distanza, in questo caso di default è 20 metri, ma possiamo ovviamente arrivare fino anche qua 100 metri, quindi vado ad impostare anche qua un'altezza di, facciamo 30 metri, ok, e vai, parte il countdown e via. Perfetto, i Quickshot ragazzi li fa davvero bene, devo dire che li fa bene bene bene, c'è anche un po' di arietta adesso, non è vento, però c'è un po' di arietta e sapete che lui con l'aria non ci va molto molto d'accordo, però quest'aria in realtà non gli crea grandi problemi, perché comunque non è vento. Ok, vedete che è arrivato, ha suonato, perché comunque è arrivato alla distanza, in questo caso l'altezza che gli abbiamo impostato, e fa il ritorno. E adesso ragazzi, appunto, voglio farvi vedere il discorso dei 1080p, vedete che qua in basso, in quello che è l'interfaccia dell'applicazione, abbiamo 1080p 30fps, se io ci clicco sopra, vedete che non posso, se vado anche a cliccare, vi faccio vedere, se vado anche a cliccare, non posso modificare né a livello di risoluzione né a livello di definizione di qualità video, è medium e rimane medium, quindi è un 1080 medium, neanche un 1080 ad alta risoluzione, è un 1080 medio, e anche se qua vado a cliccare manual, non mi fa fare assolutamente nulla, quindi vuol dire che nei quickshot ragazzi, quella che è l'impostazione adesso come adesso, è questa dei 1080p. Poi come vi ho detto all'inizio del video, ragazzi, se qualcuno di voi è riuscito a modificarli, ve lo faccio sapere qua nei commenti, perché sicuramente è una cosa che interessa a tanti. Allora, fatto questo potremmo provare un altro quickshot, che è uno diciamo di più gettonati sicuramente, che è l'orbit, quindi la possibilità di girare intorno a un punto di interesse, ok? Quindi andiamo a selezionare un punto di interesse, potremmo fare quella pianta qui, che ho qua davanti a me in questo momento, vado a selezionarla, ok, eccola qua, vado a selezionarla, un bel rettangolo, e vado a cliccare il tastino azzurro, parte il countdown, e vedete come fa bene il quickshot, ragazzi, comunque l'orbit è una cosa che i droni fanno fatica a farlo bene tante volte, soprattutto tenere stabilizzata la videocamera e tenere inquadrato il soggetto. Lui secondo me lo fa davvero bene, peccato sempre per il discorso dei 1080p che abbiamo attualmente, perché comunque un orbit è uno di quei quickshot che comunque si integrano spesso quando creiamo un video in 4K, un video cinematografico, avere un orbit fatto bene è una cosa che utilizziamo non solo nelle condivisioni, quindi avere un drone che lo fa bene così, ma che lo fa secondo me attualmente solo in 1080, 30 fps è purtroppo un limite, almeno per il mio utilizzo, perché guardate ragazzi come lo fa, lo fa davvero bene, immagine super stabile, davvero ottimo, perfetto, ha finito, e adesso sta tornando appunto da dove è partito. Allora, scendiamo e adesso proviamo la funzione che è una delle più interessanti sicuramente, cioè l'active track, perché comunque è una cosa che dispiace a tutti quelli che hanno un drone DJI come Mavic Mini o Mavic Mini 2, perché comunque è davvero fastidioso non avere l'active track di un drone che sicuramente ha le possibilità di averlo. Ovviamente bisogna stare molto attenti perché non hanno i sensori anticollisione, però in campi aperti, a fare passeggiate ragazzi è sicuramente una cosa utile, e anche qua ragazzi ovviamente questo drone, l'active track ce l'ha per uso diciamo familiare, cioè la passeggiata della domenica, una corsettina al massimo, non fatemi inseguire con la bicicletta in cose estreme perché non ha senso, non è il drone adatto per farlo e soprattutto non ha neanche l'hardware sicuramente che gli permette di fare cose incredibili, cioè alla fine lui perderà sicuramente il soggetto nei cambi di direzione veloci se fate cose strane, comunque l'hardware è sicuramente un po' limitato, però secondo me per l'utilizzo familiare o per le uscite domenicali e via dicendo, secondo me ha il suo perché da questo punto di vista. Poi sicuramente tante cose miglioreranno perché comunque è un drone nuovo, quindi tanti aggiornamenti arriveranno da parte di Fimi, quello è sicuro. Allora, per attivare l'active track basta entrare nelle impostazioni, andare a selezionare intelligent fly, quindi voli intelligenti e qua abbiamo sempre altre funzioni, abbiamo anche qua l'orbit, però questo è un orbit in cui possiamo decidere vari parametri, mentre nell'orbite dei quickshot selezioniamo il soggetto o il punto di interesse, se lui fa l'orbite intorno a quello di tenendo inquadrato il punto di interesse. Qua invece abbiamo un orbit che ci permette più funzioni, ma quello lo vediamo magari un'altra volta, oggi guardiamo lo smart track, quindi smart track, abbiamo tre possibilità di active track, facciamo quello classico, cioè quello in cui il drone ci segue, basta tirare il rettangolo intorno al soggetto e abbiamo il drone che ci segue. Se vogliamo andare incontro al drone e vogliamo che il drone sia lontani da noi man mano che gli andiamo incontro, quindi faccia un active track che se vogliamo non è in cui ci segue, ma in cui siamo noi che andiamo incontro al drone, bisogna attivare nelle impostazioni la funzione in cui lui fa questa sorta di retromarcia mentre gli andiamo incontro, perché altrimenti di default è disattivata, solo che è disattivata per sicurezza, perché lui non avendo i sensori né niente, magari uno gli va incontro, lui va indietro e questo va a sbattere contro un ramo, una pianta e dopo tutti a dire cavoli il drone si è distrutto, il drone è andato a sbattere e via dicendo. Quindi di default è disattivato, quindi vado a selezionarmi, quindi vedete che lui mi ha agganciato, basta andare a cliccare su Go, ah ok non mi fa partire il Go perché non sono ad un'altezza di 5 metri, quindi entro nelle impostazioni e vado a controllare che risoluzione ho in questo momento, ok, e vedete che ho 4k a 30 fps ma medium, lui quando fa l'active track di default si imposta su medium, non so bene il perché, se perché fa un'active track migliore nel senso che l'hardware, se no fa fatica a gestire la qualità video più alta e tenere anche la traccia del soggetto, quindi quello che è il comparto video e hardware del drone magari fa fatica, non lo so perché di default lui va sempre su medium, vado a fare registrazione video, perfetto, e lui adesso dovrebbe tenere agganciato il soggetto, cioè me. Quindi direi che possiamo fare una corsettina e vediamo come si comporta. Prendo la telecamera, così ho la telecamera del drone e ho anche questa per l'audio, quindi prendo il controllo. Ok ragazzi, quindi iniziamo a farci seguire, lui è lì in alto, andiamo. Vedete che mi sta seguendo, cioè se voi fate la passeggiata così ragazzi tanta roba, vi segue e non vi perde. Adesso proviamo a vedere invece come si comporta se facciamo qualcosina di un po' più impegnativo, quindi una corsetta, magari, con svolta. Vedete che sta arrivando, perfetto. Adesso accelero un po' la corsa, anche se io non sono un corridore, cambio improvvisamente, e vedete che se fate un cambio improvviso lui vi perde. Cioè se correte veloce e poi svoltate a 90 gradi secco, vi perde. Quello che vi dicevo prima, cioè è un drone che vi permette di fare un active track, ma un active track a livello di camminata e passeggiata, o corsettina, in cui comunque fate, diciamo, svolte a destra e a sinistra, morbide, non secche, quindi non in maniera secca, altrimenti vi perde. Quindi vado a riagganciare il soggetto, cioè io. C'è un fiatone incredibile e vado ad attivare ancora la registrazione video. Adesso provo a andargli incontro, e vedete che lui va indietro, eh. E vedete che lui va indietro. Adesso vedete proprio dove è il pericolo, che là c'è una pianta, magari lui va indietro troppo e va a sbattere per quello che va disattivata questa funzione, o meglio, di default è disattivata. Dovete essere consapevoli di quello che state facendo. Vedete che io mi sono fermato, lui va indietro ancora un po', e là ci sono i rami, quindi è un attimo che lui vada a sbattere e poi vada a danneggiarsi. Quindi, ritorniamo qua, però vedete che se voi passeggiate, normale, potete anche a questo punto svoltare, e non vi perde, vi perde dal momento che correte fate svolte veramente brusche. Se no, vedete, direi che ci sta benissimo, che comunque è un piccolo piccolo drone. Poi volevo farvi vedere adesso quello che è l'active track parallelo, quindi torniamo sempre nelle impostazioni, selezioniamo profilo, stessa cosa, rettangolo intorno a noi, go, e vediamo come ci segue in parallelo. Un parallelo un po' strano, no, adesso si sta mettendo in posizione sicuramente più giusta, perfetto, lo vedete lì, guardate, adesso si, adesso è molto parallelo, eh? Devo dire che adesso c'è, devo dire che è davvero, davvero ottimo. Un po' di corsa, mi fermo. Cosa ha suonato? Ah, la batteria, ok, l'ho sentito suonare e non sapevo cosa fosse successo, però nel suonare la batteria, ha disabilitato l'active track. Probabilmente l'active track con poca batteria non lo fa effettuare, quindi mi giro e direi che lui lo lasciamo lì un attimo e torniamo da dove siamo partiti, eh? Allora, con la batteria scarica, quando è arrivata al 25%, avete sentito ha suonato e ha disabilitato l'active track, probabilmente per questioni di, non lo so, consumo più limitato della batteria, se non tiene l'active track, questioni di sicurezza, non lo so, sta di fatto che adesso lui è la fermo in overing, eh? Allora, aspettate che rimonto la telecamera. Ok ragazzi, eh, faccio ritornare qua il piccolo phimix 8, mini, specifichiamo mini, eccolo qua, perfetto. E guardate l'overing in questo momento come è migliore rispetto a quando si parte, questa è una cosa che ho già notato, che quando si parte, anche se si hanno tanti satelliti, perché se guardate il video all'inizio avevo tanti satelliti, comunque era un continuo salire, scendere a destra a sinistra. Adesso, come per magia, guardate, si è stabilizzato in maniera incredibile, eppure abbiamo quanti satelliti? 17, all'inizio forse eravamo 13, 14, non ne avevamo pochi e avevamo comunque sempre i sensori a infrarossi sotto e l'optica flow che leggeva il suolo, eppure sempre instabile. E adesso, dopo un po' di utilizzo, una cosa che ho già notato, è come se si stabilizzasse e trovasse il suo baricentro ideale. E guardate, così è davvero niente, niente male. Quindi, direi che possiamo atterrare, visto che comunque le batterie adesso siamo al 16%, andiamo a farlo atterrare, perfetto. Cos'è che hai detto? Non lo so, ha parlato il radiocomando, ma aveva un volume un po' basso, e non ho capito cosa mi ha detto. Comunque, ragazzi, avete visto come è un drone che ha tante cose buone, ma come succede sempre, FIMI ci lascia sempre un pochino a metà, nel senso che fa sempre quel passo e poi ne fa mezzo indietro, fa un passo in avanti, mezzo indietro. Perché? Hai fatto i quickshot che funzionano bene, sono praticamente... Hai fatto i quickshot che funzionano bene, perché funzionano come quelli del Mavic Mini, a livello di qualità e di comportamento del drone, però la risoluzione, almeno per quello che ci ho capito io, per quello che è adesso il drone in questo momento, sono a 1080p ed è un peccato, ragazzi, è un peccato. Per i social vanno benissimo, perché di più di 1080p sui social non si usano, però, ragazzi, questi quickshot si possono integrare anche in video cinematografici che andiamo a fare. E l'active tracker, ragazzi, direi che non è niente male, ovviamente non è un active tracker alla DJI Mavic Air 2 o 2S, cioè questo active tracker in cui ci segui in qualsiasi condizione, però stiamo parlando di un drone superleggero, che adesso è 258 grammi, diventerà 249 grammi, ormai mi sono stancato di dirlo, però bisogna specificarlo, secondo me per far capire bene alla gente che se lo acquista oggi non è un drone da 249 grammi, però è anche il primo drone che fa tutte queste cose in maniera più che buona, che è l'unica alternativa a quello che è DJI, ovviamente, perché adesso c'è solo lui come alternativa, poi si arriverà altro come l'Apsanzino, anche se tuttora, a parte questi preordini che abbiamo fatto tutti, ma non si sa praticamente niente di quando e come uscirà e come sarà, come sarà a livello pratico reale, sulla confezione magari tante cose, però pratico, staremo a vedere se mai arriverà. E quindi questo Active Track lo fa davvero bene, ovviamente è un Active Track da passeggiata, da gita, che poi è per quello che nasce lui, un drone per tutti, un drone da famiglia, un drone da divertimento, ovviamente non da sport estremo, quindi un Active Track che comunque abbiamo e non abbiamo sui vari DJI Mavic Mini o Mini 2. Quindi ragazzi le mie conclusioni sono che Fimi ha prodotto un drone secondo me più che buono, per essere comunque l'unica alternativa a DJI per queste dimensioni e quasi peso, che però lascia sempre quel po' di amaro in bocca perché ci sono sempre delle cose lasciate un po' a metà e questo succede sempre quei droni low cost, c'è sempre qualcosa per cui loro ci deludono in cose che poi non sono complicate probabilmente, però sono quelle che utilizziamo normalmente quando utilizziamo questi amatissimi droni, quindi avere dei limiti dati da delle cose che non dovrebbero esserci sono un pochino fastidiose, però questo non vuol dire che questo non sia un buon drone. Quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato sul canale i quickshot e come li fa e l'Active Track, questa funzione che manca ai vari DJI Mavic Mini e Mini 2 vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tanti novitanti e prime spoiler di quello che faccio, dove vado a volare con i droni FPV, stampe 3D, tantissime cose arrivano lì, quindi seguitemi su Instagram sempre se vi va e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale, teneremo offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial o una novità. Ciao!